Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 2 marzo del 2020. Ovviamente il tema su tutti quanti i giornali principali non può che essere il virus, non può che essere il coronavirus. Devo dire che soltanto Repubblica, pagina 2 e 3, la dedica con reportaggi di mensurati di cui parleremo tra poco all'altra grande emergenza, come l'aveva individuata molto bene secondo me Sallusti pochi giorni fa sui giornali e cioè quella bomba, come è che l'ha definita mensurati oggi, la bomba umanitaria è esplosa in Grecia, cioè il ricatto di Erdogan. Ma andiamo prima sulle notizie del coronavirus e poi sui commenti. Devo dire che subito vi voglio anticipare un commento, cioè se c'è qualche cosa che descriva l'imbecillità, la cialtronaggine dell'Italia, l'incapacità di far sistema, l'incapacità di gestire un'emergenza, quello è il calcio italiano. Sono dei cialtroni, cioè se in questo paese Conte e i suoi ministri sono ridicoli, in un posto normale vengono cacciati via, ma oggi, come dice un'intervista di una pagina intera il presidente della Camera Fico, che è entrato rivoluzionario ed uscirà dalla Camera come pompiere, non è il momento di fare critiche a nessuno, se non le fai ora nell'emergenza quando le fai, quando siamo morti tutti, da un punto di vista economico intendo, ovviamente. Insomma, il calcio è questa specie di grande racconto di un'Italia incapace di tutto. La UE affronta l'emergenza, ecco, forse oltre al calcio anche l'Unione Europea, direi che è l'altra grande istituzione che dimostra sempre le sue debolezze quando serve, le debolezze quando ci furono le guerre, la debolezza sull'Ibia, la debolezza sull'economia, la debolezza sul coronavirus. L'Italia può sforare il deficit, ringraziamo la comunità europea che ci permette di sforare il deficit, sforare il deficit, cosa che comunque l'Italia avrebbe comunque, immagino, fatto. Vi ricorderei a tutti quanti voi che siete a casa e ascoltate questa zuppa e sapete come la penso, che quando si sfora il deficit non è che abbiamo creato dei soldi da nulla, che i cattivoni non ci vogliono dare, no, abbiamo impegnato le prossime generazioni, cioè i nostri figli, a pagare un conto che oggi noi non vogliamo pagare. Nel frattempo questo è un paese in cui non si riesce a fare nulla, nulla, ti dicono 3,6 miliardi, io vorrei, toc toc, un governo per esempio che in emergenza decidesse una cosa, si fanno le opere pubbliche da domani con i commissari e alla Morandi, in deroga tutte le cazzate che abbiamo raccontato negli ultimi anni. Vabbè, sale nel frattempo anche nel resto del mondo la fobia coronavirus, o il panico coronavirus, in Daily Mail oggi ci racconta che la UK, che in Gran Bretagna, sono raddoppiati casi, ma sono arrivati a 36, calcolando che i nostri sono 1700 e sono arrivati anche a un sacerdote a Roma a due passi dal Senato a San Luigi dei Francesi, direi che è ancora poca roba quella che arriva in Gran Bretagna, la Francia si preoccupa, chiude il Louvre, ma chi è che lo chiede? Perché i francesi sono così, sono sempre rivoluzionari, lo Stato, l'ENA, il Sindaco, no, i dipendenti, perché non si volevano ammalare, perché ovviamente evidentemente a Louvre arrivano tanti stranieri. One, quell'altro virus creato in laboratorio! Ecco, ci pensa il Fatto Quotidiano, rubricando e mettendo questa storia di copertina su un virus fatto in laboratorio a Wuhan, proprio di aver nato il coronavirus. Insomma, fantastica idea di complottismo per vendere un po' di copie del Fatto Quotidiano, perché nello stesso Fatto Quotidiano si dice che effettivamente lì hanno sperimentato, come in tutto il mondo, virus, ma che quei virus che vennero raccontati nel 2015 non c'entrano assolutamente nulla col coronavirus. Forse anche allo Spallanzani hanno sperimentato qualche cosa, ma questo non toglie che quel virus e quest'idea di complottismo straordinaria del Fatto sicuramente acchiapperà click e lettori. E poi sicuramente ci arriveranno tutte le catene che sono arrivate in questo momento su WhatsApp. Invece di pensare alle cose serie, pensiamo ai complotti, che peraltro ci saranno forse. Ma insomma, in questo caso cerchiamo prima di affrontare l'emergenza e poi vediamo il complotto che c'è dietro. I titoli sono stupendi, WAN quel virus fatto in laboratorio, malattie fai da te, è quello che ci scrive il Fatto. Ringraziamo per darci l'idea del complottone. Giannoni invece sul giornale racconta una cosa molto normale, ma anche molto tragica, cioè che alla fine ci sono dei morti e quando i morti sono te stesso o la tua famiglia o un tuo parente, beh, insomma, questi numeri, come li diamo noi, sono dei numeri che sono troppo freddi per raccontare una realtà. Così il virus ha ucciso mio padre di 80 anni, sembrava inizialmente un'influenza, era 38 e mezzo, poi è scesa, poi è ritornata 38 e mezzo e poi mio padre di 80 anni se n'è andato. Insomma, la tragedia ovviamente della malattia, che è chiaro, riguarda questo virus come tanti altri virus, ma comunque in questo caso fa notizia. Beh, la notizia più grande è quella del cialtronismo del calcio. Guardate, io non ci voglio neanche stare appresso a questa roba qua, perché chiudi lo stadio, apri lo stadio, lo fai a porte chiuse, non le fai a porte chiuse, la Juve si lamenta, l'Inter si lamenta, il padre eterno si lamentano, tutti si lamentano, ma questi, ma vi rendete conto, ma vi rendete conto, questi, altro che i nostri politici, questi sono scollegati completamente dalla loro realtà, dalla realtà di quello che sta avvenendo, c'è non rompere i coglioni sul campionato non compionato, i bambini non vanno a scuola, ma occupiamoci delle cose serie, ma chi se ne frega oggi del campionato? Voi dite, eh, valgono molti miliardi di euro, e quanto vale l'istruzione di una generazione? Quanto vale la chiusura delle agenzie di viaggi? Quanto vale la chiusura delle botteghe? Quanto vale tutta quella roba? Chi se ne frega oggi del fatto che rimandiamo una partita? Maurizio Crosetti, secondo me, è quello che lo spiega meglio di tutti su Repubblica, durissimo Crosetti su Repubblica, un luogo abitato da guitti, questo è il nostro calcio. L'economia nel frattempo è un disastro, che è il vero, cioè sono tanti pezzetti, compreso anche il calcio, che riducono l'economia in poltiglia, e il sole dice, tra l'altro, nota un lato di cui ci siamo occupati molto nelle settimane scorse, c'è il famoso spread, l'aumento dello spread ha fatto sì che in questi giorni si siano bruciati da soli 500 milioni del tesoretto che avremmo accumulato. Sette giorni per fermare il virus, dice da tutte le parti dell'Istituto Superiore della Sanità, sostanzialmente dicendo, vediamo nei prossimi sette giorni se le misure di contenimento che abbiamo ottenuto e abbiamo realizzato sono servite a contenere questo virus, o se i contagi dilagano, se continuano a dilagare sono cazzi, dice l'Istituto Superiore della Sanità. Così come l'altro grande tema è su questo virus, sono ovviamente i posti in ospedale, perché questo è il vero grande tema, cioè che mancano probabilmente le strutture, se dovesse dilagare questo virus, per le terapie intensive, soprattutto negli epicentri in Lombardia e in Emilia Romagna. Seconda, diciamo, questione di giornata, che come dico soltanto repubblicamente, secondo me con il giusto rilievo, è quello che sta avvenendo in Grecia, e quello che sta avvenendo in Turchia, dove, come sapete, abbiamo pagato 6 miliardi di euro spillati grazie ai buoni uffici della Merkel, per tenere 4 milioni o 3 milioni e mezzo di profughi bloccati in Turchia. Quanto poteva durare questa vicenda? E soprattutto, perché regalare a Erdogan, che non è esattamente la persona più tranquilla del mondo, questa bomba umanitaria? Evidentemente i nostri geni europei non se li sono chiesti, abbiamo pagato tutti per fare un grande campo profugo in Turchia, e oggi Erdogan, che si è fatto girare le scatole, sta chiedendo 3 miliardi, come spiega il Corriere della Sera, ma anche Repubblica, e soprattutto sta mandando un po' di gente in Grecia per far sentire come la rana che bolle, far sentire un po' aumentata la temperatura dell'immigrazione attraverso quella rotta. Si parla, pensate un po' voi, di isole come quella di Lesbo, in cui ci sono 20-25 mila immigrati in un'isoletta, e nel reportage di Mensurati, per carità ha fatto bene quello che volete, grande merito all'idea di raccontare una cosa che gli altri giornali oggi non raccontano, beh, lì il problema sembra che c'è la destra estrema, che non vuole gli immigrati, il governo che con i gommoni cerca di evitare l'arrivo degli immigrati in Grecia. Trovatevi voi a Lesbo, e guardate che cazzo sta succedendo in quell'isola e in quelle isole greche, che sono morte, non coronavirus, non por un coronavirus, morte, letteralmente morte, ma il nostro punto di vista è sempre il punto di vista, no, dall'altra parte, quello bonista, quello di dire perché, facciamoli venire tutti, e tra l'altro, non so, la Bonino intervistata oggi da Repubblica, ovviamente ci dice, ma come, la Germania grazie all'immigrazione, oggi ha un tasso di anzianità della popolazione più basso, proprio perché sono arrivati gli immigrati, complimenti, il problema è quali immigrati si sono presi loro, anche noi potremmo avere una bella immigrazione se ci servisse, ma il punto portò è farle fare qualcosa, cioè i siriani colti ingegneri 25 anni, se li prendono tutti un po' diverso, e prendere gente della, diciamo, senza sensabilità, e soprattutto senza lavoro. Le sardine ad un bivio, dice Ilvo Diamanti, Repubblica pure, si rende conto che queste sardine stanno finendo, nel ridicolo col quale loro si sono presentate, ma il ridicolo soprattutto di quei commentatori che per mesi ci hanno raccontato del fenomeno delle sardine, ed era del tutto evidente, che erano tutti quei fenomeni, fatti a tavolino da Repubblica e da quegli intellettuali della sinistra che vogliono criticare da sinistra il partito, e Cerchietto è finito ad amici ed è finito a fare quella roba là. Tra l'altro ricorda oggi Ilvo Diamanti che Cerchietto ha detto che si sarebbe dimesso da portavoce all'assemblea, al convegno, alla manifestazione di Pesero. Dov'è Cerchietto? È ancora là ad amici. L'ultima storia è questa del baby rapinatore di 15 anni, che viene ammazzato da un carabiniere non in servizio, che gli spara. E qui ovviamente potete immaginarvi l'intervista del padre del baby rapinatore, gli amici del baby rapinatore che devastano un asla dove avevano portato il baby rapinatore. Lì c'ha ragione, feltri sul libero. Ragazzi, se prendete una pistola, diventa il più simile possibile a una pistola vera. La puntate in faccia a uno che si qualifica pure come carabiniere, dice, lascia perdere, vai via, sono un carabiniere, e quello spara. Beh, insomma, questo baby rapinatore dobbiamo avere purtroppo il coraggio di dire che questo è un incidente sul lavoro. E qua il problema non è il carabiniere, ma è quello che ha puntato una pistola per rubare un Rolex in pieno giorno in città a Napoli. Questo è il problema, dice feltri. Certo, è morto e ci dispiace, e capiamo umanamente i genitori che fanno di tutto, ma dal punto di vista sociale noi non capiamo assolutamente questo grande fracasso su una storia di ordinaria follia criminale. Io direi che per oggi è tutto, vi ricordo che questa sera c'è sempre Quarta Repubblica, tanti ospiti per parlare del coronavirus, le conseguenze economiche e le follie di un governo che secondo me lo sta gestendo peggio di quanto faccia la Lega Calcio. Ciao! Ciao!